Avete adorato questo gioco? Lo sviluppatore lo ha aggiornato tantissimo, non possiamo che continuarlo. Allora Fè, elenchiamo velocissimi che cosa hanno aggiunto. Hanno aggiunto un nuovo tipo di cibo da mangiare, hanno aggiunto la possibilità di far crescere i figlioletti e quindi renderli degli adulti. E cosa non meno importante, si possono dare i calci a Pasqualo. Bellissimo, bellissimo. E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi. E io sono Ferinichi. E adesso che l'hanno aggiornato siamo prontissimi qua a fondare la nostra super colonia perché ormai si possono fare più di un figlioletto, possono crescere. Quindi siamo pronti ad espanderci lungo tutto l'oceano, sei felice? Certo Ferin, sono prontissimi a fare la nostra colonia sopra una zattera, non vedevo l'ora e quindi direi che possiamo iniziare. Allora, dobbiamo subito stare attenti perché lo sai bene che l'inizio è sempre super delicato. Allora, guarda qua subito l'icona del nuovo cibo. Credo che lo teniamo sempre pescando, però non ne sono sicuro. No, allora, io l'ho letto perché ho letto tutti gli aggiornamenti. Ah, addirittura? Sì, lo teniamo cuocendo il pesce, ovvero il pesce crudo ovviamente non lo puoi mangiare come era nella versione precedente, ma se lo cuoci diventa questo spiedino di pesce che tu ti puoi mangiare. Perfetto, quindi adesso ci possiamo sommare facilmente anche in questo modo. Non vedo l'ora di provarlo, ho già notato che i cuoricini adesso scendono piano 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 e li vediamo visivamente scendere. L'avevi notato Ferin? Sì, ho notato. Stavo guardando anche io infatti i cambiamenti. Quindi adesso ci accorgiamo subito quando sta per morire di fame, almeno magari riusciamo a salvarla all'ultimo. No, 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 è moltipesto, malissimo Pasqualo, vai immediatamente via. Ok, ok, va molto meglio. Ci ha danneggiato però il pezzo, però almeno non è crollato. Si può riparare? Credo di sì, non lo so, fammi vedere un pochettino, tipo, no, si è seduta a mangiare, non è ciò che volevo. No, 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 evidentemente no, però rimane su, quindi l'importante è quello. Esatto, l'importante è che per ora non crolli. Squalo non la smetti di rompere le scatole. Allora, siamo a 380 di legna prendendo anche questo alberello. Ok. Abbiamo allargato bene la piattaforma, di conseguenza secondo me siamo pronti a pescare. Che dici Ferre? Sì, prontissimi, vai, 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 vai. Prontentiamo qua, dopodiché continuiamo a fare alberelli, facciamo che ne facciamo 3 qui, anche se è un po' pericoloso perché ce li potrebbe mordichiare. Aspetta che dezoomiamo un po', guarda che bello così. Esatto, si può fare, vai, 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 vai. Sì, ne approfittiamo. Proteggi anche... Mangiate prima un attimo, bravissimi. Ok, tu vai a sistemare qui. Ti dicevo proteggi anche la zona per pescare. Lo so. Lo sai, va a prendere sempre le cose più importanti. Le cose che ti piacciono di più, quello che il tieni di più, tac, lo distrugge subito. È sempre così. Allora, aspetta che gli facciamo un attimino mangiare. Voglio vedere se lui si ferma dal pescare e si mette a mangiare quando ne ha bisogno. O se dobbiamo stare almeno su quello attenti noi. Vediamo un attimino, eh, perché questa cosa è importante. No, mangia, mangia, mangia. Perfetto. E dopodiché... E sono molto più autosufficienti in questo modo. Sì, 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 sì. Molto meglio, molto meglio. Ci hanno semplificato un po' il gioco e ne sono felicissimo perché possiamo stare un pochettino più tranquilli. Metteva un po' di ansia, capito? Ti sembrava anche a te di essere lì sempre sul punto di morire, quindi un po' di ansia. Oh, no, 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 no. A parte Pasqualo, che è ok che lo possiamo picchiare, ma viene davvero tantissimo. Vuole essere il protagonista di questi video e c'ha pure bucato. Ah, quanto non lo sopporto, guarda. Io prima o poi me lo mangio, te lo giuro. Anche se per adesso non possiamo... Non posso rire il fatto che troppo è papà così, almeno la smette di rompere. Eh, esatto, ci starebbe. Però io ho scoperto una cosa. Se gli diamo da mangiare il nuovo pesce, quello cotto... Lo spiglino di pesce. Lo riempie tutto di cuori. È fortissima sta cosa. Quindi possiamo molto più facilmente sfamarli e va assolutamente... Eh, no, basta, però, cioè, ti ho appena steso e sei già tornato dall'altro lato. Eh, abbi pazienza, abbi pazienza. Devi proprio smetterla qua perché mi stai facendo davvero... Ecco qua, lo sapevo, lo sapevo che alla fine avrebbe bucato. Però dato che gli ho dato un sacco da mangiare, posso lasciare lui a pescare per un sacco di tempo. E vediamo se arrivando almeno a dieci di pesce finalmente nasce il nostro figlio. Sì, sì, quello sicuramente è cambiato, ma non so come. Potrebbe essere cinque di pesce cotto, però mi sembra strano perché comunque loro lo mangiano quello. Eh, sì, se lo mangiano subito. Guardate adesso, eh, guardate adesso. Appena io faccio smettere di lavorare lei e si mette a mangiare, guardate... Puff, torna a cinque. Bellissimo, bellissimo. Perfetto, strabella sta cosa. Ovviamente dobbiamo andare noi a prepararlo nel campfire e poi loro lo mangiano in automatico quando hanno fame. Tu prepara un po' di pesce e tu prendi un altro. Vediamo un pochettino di arrivare ancora di più. Tanto la legna al momento non ci serve dato che ne abbiamo 380. Quindi li mettiamo a fare questi due lavori e vediamo se prima o poi sbuca un figlioletto. Avevo ragione! Si mangia praticamente tutto il cibo che prepari e nasce il figlioletto. Come si mangia tutto il cibo che prepari? Che si mangia cinque di pesce cotto per nascere. Uh, ok, ok, ok. Quindi è un po' più tosto farlo nascere. Sì, è un po' più difficile. Però almeno ne vale la pena. Ok, allora li rilascio ancora un pochettino così. Non appena abbiamo un bel po' di cibo da parte, ma non cinque perché non ne voglio subito far nascere un altro. Li rimetto a prendere cibo. Cos'è successo, Fere? Non lo so. Si è bloccato per qualche motivo. Non lo so. Aspetta, 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 aspetta. Luck. Ah, non abbiamo più limoni. Ah, ok, vabbè. Dannazione. Pianteli, 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 pianteli. Allora, 1, 2. Datemi una mano. Forza, forza, forza. Figlioletto, vedi di crescere in fretta che qua ci servono altri lavoratori e aiutanti. Esatto. Perché Pasquale è un po' troppo birbante qui e ci serve una mano. Quindi cresci in fretta, ti diamo tutto il pesce che vuoi. Non è vero, ne abbiamo solo 3. Guardalo, guardalo, guardalo tutto il tempo. E vuole partecipare. E' cresciuto, è cresciuto. Sì, già. Mi ha fatto spaventare. Ma poi, scusa, io pensavo diventasse uguale a lui, non che diventasse una femminucera biondo. Ha cambiato colore di capelli. Fere, è ufficialmente difficile ora. Ne abbiamo 3 da gestire. Oddio, ci sono più lavoratori, eh. Però sono tanti da gestire. Eh, esatto. Mi sa che devo aumentare i posti dove pescare? Sì. Allora, dobbiamo stare calmi, Fere. Dobbiamo ragionare. Esatto, esatto. Secondo me, la questione è creare delle aree diverse per ogni cosa. Tipo l'area della pesca, l'area degli alberi, l'area del campfire. Sei d'accordo? Mi sembra una buona idea. Sì, anche secondo me è meglio avere tutto organizzato. Ok, allora andiamo a creare subito la zona degli alberi. Ok. Così, diciamo, ci spostiamo un pochettino perché gli alberi tolgono un sacco di vista e di conseguenza sono abbastanza fastidiosi. Noi facciamo così. Ok. Guarda, adesso ti faccio vedere questa nuova tattica. Costa un po' di legna. Ma c'è già un altro figlio. Oh no, non me ne era accorto, ho sbagliato. Come ha fatto a crescere già l'altro figlio? Dannazione, Fere. Non ce li possiamo permettere. Stiamo esagerando, Steph. Pasqualo, pensaci tu, dai. No, Fere, ma che dici? Vabbè, dai. No, 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 Pasqualo, l'hai chiamato e l'hai chiamato. L'hai venuto subito. Comunque è quello che ti dicevo prima. Secondo me è geloso, capito? Vedo ormai l'espandersi della famiglia. Magari, caso oneste, lui vorrebbe salire sulla casa. Secondo me vorrebbe essere l'animale domestico della casa. Sì, 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 sì. Dicevo, guarda questa tattica. Praticamente in questo modo questi tre alberelli sono protetti. Sì, sì, sì. Però allo stesso tempo non ci danno fastidio per la visuale. È già cresciuto anche l'altro. Oh mamma mia. Siamo già quattro. Ed ecco Pasqualo che reagisce subito male. Nato un altro figlio a letto e abbiamo una nuova formazione perfetta. Due che pescano, due che cucinano e uno che pensa all'alberi. È una roba incredibile. È una catena umana davvero efficiente. Vabbè, però è quello il senso. Il senso è farsi proprio una colonia enorme piena di abitanti e riuscire a sopravvivere in mezzo a nulla. Sì, sì, sì. Io mi sto divertendo troppissimo. Il bello di questo gioco è proprio questo. Io mi sto divertendo troppissimo. Così è davvero una figata. No, è davvero carino questo gioco. Allora, aspettiamo che cresca il nuovo figlio a letto. Così appunto siamo in cinque, due pescano, due cucinano il cibo e uno gestisce tutti gli alberi. Quindi li pianta e li prendi. In questo modo tutto il tempo ne abbiamo tutto quello che ci serve. Esatto. Allora, se preparo altro cibo adesso, facciamo nascere altri figlioletti. Siccome preferisco farne uno alla volta con calma, non metto nessun altro a cucinare. Metto costantemente gente a pescare e a gestire gli alberi. Ok, questa è un po' la mia strategia di oggi, Fer. Secondo me è la cosa migliore che possiamo fare. Siamo nel mentre a settecento di legna. Vabbè, ma lì siamo super messi. Credo che siamo super messi bene e fra un po' mi sa che rendiamo ancora tutto più fortificato. Sarebbe carino se si potesse costruire, tipo magari costruire anche, capito, in verticale. E quindi magari farti una sorta di rifugio, di capanna in mezzo alla zattera. Quella sarebbe carina. Eh, sarebbe carina. Hai ragione, hai ragione. Si potrebbe provare. Un po' come su Raft che comunque potevi farti la base vera e propria. Quello sarebbe molto carino. Ma sai che secondo me se tu lo contatti e gli chiedi di farlo, lui te lo fa. Lo facciamo. Perché lui comunque, ho visto che risponde tantissimo e quindi gli si può dare qualche suggerimento. No, infatti, questo gioco l'ha aggiornato praticamente subito. Perché ha detto che ha avuto un sacco di supporto, ha voluto ascoltare le richieste. Quindi glielo proviamo a proporre. Esattamente. Comunque non so se ti sei accorta, ma siamo diventati cinque. Sì. Per ora sono nate tutte ragazze. Non so se sia una coincidenza di questa famiglia che nascono un sacco di sorelle o se è fatta apposta, però per adesso sono tutte ragazze. Quindi al momento non abbiamo altri maschietti. Non lo so che è casuale quando cresce. Davvero? È casuale. Quattro su quattro? Che coincidenza incredibile. Non lo so, sì, è strano, è strano, è strano. Ma ora abbiamo un problema. Stiamo diventando tantini. No, dici. No. Ce ne sono altri tre che scorrazzano, nel caso non li avessero notati. All'inizio del video abbiamo detto, con Solini creeremo una colonia. L'abbiamo proprio fatto. È una colonia di ragazze. Io li volevo un po' misti. Sai com'è? È un po' di vivacità. Cosa ti devo dire? Tutte sorelle sono nate. È nata in questo modo. Noi ce la facciamo andare bene. È pur sempre una colonia, quindi va comunque bene. Allora, continuate a cucinare il pesce, uno qua a pescare. Cioè, ormai devo cliccare a caso, per fortuna, che si autogestiscono, eh? Perché altrimenti era letteralmente impossibile. Io te lo dico perché è davvero troppa gente. C'è sarebbe impossibile dirgli, mangia, prendi, vai, fai lì, fai quello, fai quell'altro. No, ovviamente, ovviamente. Sarebbe impossibile. Sei alberi alla volta, tre persone a pescare alla volta, tre focherelli per cucinare alla volta. A quant'è siamo arrivati? Fere, conta quanti siamo. No, non ce la faccio. Siamo mori in continuazione. Fere, ci devi riuscire, forza. Saremmo almeno 15. Aspetta che forse qualcuno sta per morire di fame, dannazione. No, come? No, 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 no. Dovete cucinare, dovete... Perché qualcuno... Ah, non abbiamo limoni. No, prendete i limoni. Quello sta morendo di fame lì sotto. Mi sa che qualcuno lo perdiamo, Stef. Eeeh, mi sa che è collassata. No, forse abbiamo preso i limoni in tempo. Oh, hanno mangiato tutti a ruolo. Allora stavamo per perdere il padre, che è l'unico maschio di questa colonia, stava per morire totalmente. Guarda, stanno ancora mangiando disperati, mangiate veloci. Poverini. Vi prego, non crollate. Uh, c'è troppa gente. Non riesco più a gestire quegli alberi. Non riesco più a gestire quegli alberi, Fer. E' difficile. E' perché finisco il limone, quindi non posso cucinare. Eeeh, mi sa che qualcuno crolla, e mi sa che qualcuno crolla. Mi dispiace. E' il ciclo della vita. Non è colpa nostra. No, il papà no, però, è l'unico maschio. Eeeh, Fer. Dai, Stef, è l'unico maschio. E che ci posso fare? Non ve lo puoi fare. E' andato. Far crollare così. E' andato, Fer, è andato. Mi dispiace. Non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta, è colpa di Stef, ha fatto morire l'unico maschio. La nostra colonia. Che poi sono tutti ancora, ed attenzione. Guarda, l'altro ne è crollato. Guarda, un altro. Stanno crollando uno dopo l'altro. Non ci credo. Stef, sei un assassino. Ma non c'entro nulla io. E' ingestibile. Perché finiamo i limoni. Loro li mangiano tutto il tempo, io non riesco a cucinare. Guarda, Stef, dai, quanti ne abbiamo persi. Fer. Sei una tristezza, però, me ne ho fatti morire tutti. Fer, cosa devo fare? Guarda, io continuo solo. A piantare alberi tutto il tempo. E loro continuano. Perché dovresti metterne di più, secondo me. Ma non ci riesco. Sono troppi. Lo so. E' impossibile. Bene, ragazzi, se ti è scrisci, se ti è scrisci, se ti è scrisci, se ti è scrisci, se ti è scrisci. Se ti è scrisci, se ti è scrisci, se ti è scrisci. E se la prima volta che avete il nostro video, potete considerarli. E se ti iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.